Racchette in classe è il progetto promosso dalle federazioni tennis, tennis tavolo e palla tamburello, in base a quanto previsto dal MIUR nell'ambito dello sviluppo delle competenze motorie per gli alunni della scuola primaria. La realizzazione del progetto si fonda sullo sviluppo delle funzioni organiche, motorie, cognitive, affettive, emotive e relazionali. Questo progetto contribuisce a far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo, far utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d'animo, far sperimentare una pluralità di esperienze di gioco sport che evidenziano il concetto di multidisciplinarietà, far sperimentare in forme progressivamente più complesse nuove gestualità, far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psicofisico, far comprendere all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e sviluppare comportamenti ispirati all'integrazione sociale. Bracchette in classe, che toccherà oltre 600 scuole, si avvale di tecnici qualificati e kit didattico sportivi appositamente studiati. Bracchette in classe, che toccherà oltre 600 scuole,